Calcinacci che si staccano e crollano dal sottopasso di Ponte Sasso è l'allarme lanciato dai residenti che in questi giorni ci hanno inviato foto e video per segnalare lo stato di degrado dell'opera e la loro preoccupazione Si sta sbriciolando, ci ha scritto il reporter di strada si vedono i ferri arrugginiti in diversi punti e fortuna che non è passato nessuno quando sono caduti quei pezzi di cemento ad annunciare un intervento è l'assessore ai lavori pubblici del comune di Fano, Fabiola Tonelli Primo sottopasso dalla parte sud che è quello di Ponte Sasso, sottopasso carrabile stiamo lavorando perché appena abbiamo una dita disponibile andremo a verificare gli intonaci che si stanno in questo momento staccando strutturalmente il ponte non ha problemi quindi ci sono questi piccoli cadimenti di questi intonaci e noi andremo a battere ed eventualmente poi a risistemare cercando di ripristinare anche in questo caso un ponte decoroso sia la parte interna carrabile ma anche la parte esterna pedonale andremo a risistemarlo